Sindaco Masci, controlli in città come in tutto il paese per quanto concerne la Movida, le mascherine da indossare dalle 18 fino alla mattina dopo, ma vogliamo spiegare bene cosa significa e questi controlli a cosa devono portare, perché c'è anche un po' di confusione in molti cittadini. Sì, noi ci troviamo in una fase delicatissima, dopo i tre mesi di lockdown abbiamo avuto un periodo in cui il contagio si è abbassato, drasticamente ridotto, quasi azzerato e in qualche modo abbiamo allentato quelle che erano le precauzioni. Oggi che sembrerebbe tornare in qualche modo il virus anche per i contagi di persone che vengono da fuori o che tornano dalle vacanze, è il caso di stare attenti. Questo non vuol dire allarme, vuol dire allerta, vuol dire utilizzare i dispositivi di protezione individuale, mettere in campo quelle precauzioni minime ma che servono per tenere lontano il contagio da noi. Quindi mascherine da indossare quando i rapporti sono troppo ravvicinati, il distanziamento fisico e sociale, la pulizia che è fondamentale e tutte queste precauzioni devono essere messe in campo proprio per evitare che il virus possa tornare e possano esserci delle espansioni di contagio. Noi per quanto riguarda l'amministrazione comunale abbiamo cominciato anche un'opera di prevenzione, ci sono delle macchine con altoparlanti che avvertono i cittadini e informano i cittadini sui comportamenti da mantenere. Poi il comitato per la sicurezza pubblica preseduto dal prefetto con il questore, con il sindaco e con tutte le forze dell'ordine ha deciso di intensificare i controlli dalle sei del pomeriggio in poi come prevede il decreto del ministro della salute. Quindi in questi giorni ci saranno sicuramente più controlli soprattutto nelle zone in cui è più facile l'assembramento, quindi parliamo delle riviere, parliamo della zona della Movida, dei via Cesare Battisti, di piazza Salotto, di piazza Muzzi, parliamo della zona del centro storico. Sono tutte le zone dove c'è la potenzialità di un assembramento, ci saranno i controlli quindi mi raccomando indossate le mascherine perché un controllo potrà comportare una sanzione anche di 400 euro. Quindi manteniamo i comportamenti basici per evitare contagi e per evitare sanzioni perché così sicuramente possiamo vivere più serenamente e più tranquillamente e tenere lontano il virus. Grazie.